ciao a tutti e ragazzi sono sempre iti c'ho trovato to what nab e sono incompagnati blackwalls 43 16 ora ragazzi io proverò c'è impossibile impossibile vai mi sono buttato nice mi sono dato 1 2 3 4 5 cuori ma perché tu non ti sai buttare ti faccio vedere come si tolgono i cuori 5 peccato eh vio dai ragazzi non oggi questi episodio devi dire che le macchie si togono i cuori no bellissimo allora mi continuo fino a che non mi do il logo almeno allora ragazzi non so se l'ho fatto con voi mi sembra ragazzi questo esperimento c'era la lag nel server c'era un villico da qualche parte forse era sto qua no non era lui insomma c'era ah siamo andati a casa ragazzi abbiamo sviluppato l'inventario ho preso tutti i miei smeraldi ragazzi ho fatto ancora la cucina io ne avrei anche ma non te lo do no no perché devo commerciarlo con un villico appena lo trovo ragazzi allora io cosa mi mangio non lo so insomma ragazzi se io faccio libro piuma inchiostro libro e penna ora voi direte ma tu hai sprecato una piuma che sono 4 frecce io faccio così firmo firmo e chiudi e questo qua è un libro ragazzi libro scritto e quindi mi darà uno smeraldo questo smeraldo lo porta quel tipo sfigato ragazzi scusate ragazzi ma c'è mia madre che mi urla quindi devo andare a calmarla ora ragazzi scusatelo ma un attimo one second allora ragazzi nel frattempo prova a cercare la pappa cibo ho trovato piccolo canyon un piccolo canyon dove c'è del ferro ora io mi butto per prendere il ferro intanto in frattempo Lorenzo nel frattempo che sto passeggendo ho trovato un mini canyon dove c'è del ferro lui passeggia trova il canyon è vero con il ferro però mi servirebbe cibo io non posso sto facendo finta di scrivere dei libri me lo porti? non ci penso neanche non so neanche ma sono tanto fuori non so neanche dove sei ho attraversato il mare cioè lo c'è ma... si ragazzi c'è ancora di chiamare per passare in tempo adesso che mi hai detto che sei vicino all'oceano so tutto io quando ho giusto questo ferro ok devo solo trovare il villico che mi paga tutta questa roba altrimenti sono pregato ho visto un maiale maiale carne carne mucca mucca ah ragazzi qua ci siamo anche fatti due mini casettine con due piccoli letti perché mi sa che rimarremo qui molto tempo ragazzi lontani da casa al freddo al sole impauriti ma sto si ma sto no sto proprio delirando oh villico baggato qui intanto dove è il mio cavallo? perché stavo pensando che per caso tu avessi preso il mio cavallo per sbaglio ma... no ci sono andato a piedi sai che forse ci è morto il villico quello che ci... quello che per il libro scritto ci dava vabbè che il villaggio è enorme ci metterò un bel po' a trovarlo però... ah forse è lui ecco forse è lui forse è lui scusatemi ragazzi per la paura che vi ho fatto prendere ah ragazzi il mio amico qui è nobbo mai come te si si va bene in frattempo ho trovato due cosi guarda quantissimi e due mucche e mi sono queste questo sono 12 frecce questo sono 12 frecce qui intanto sto trovando tanto ferro c'è ragazzi vado in giro e trovo del ferro c'è vado in giro e trovo del ferro ok mi sei buggato mi sa che il tizio ha finito gli smeraldi ti rendi conto ho mandato sull'astre con villico no eh si probabilmente ma lo prendo il carbone eh? lo prendo il carbone ehm si dai perchè io ce ne ho dietro un po' però c'è un villico ah già c'è un villico che lo compra quindi prendilo intanto noi andiamo in giro ragazzi certo che devo dire che abbiamo avuto davvero tanta fortuna cioè a trovare a proposito io a caso ho lasciato la perla dell'end in teoria te l'altra volta avevi detto che diciamo che con la perla dell'end si poteva raccogliere una volta lanciata sì esatto ho fatto questo esperimento in single player in creative e a quanto pare così il problema è che per fare quella perla lì bisogna andare nel nether ciò vuol dire andare a prendere l'ossidiana vai che sta per venire a notte e viene al villaggio che oggi andiamo a dormire ma il punto è che non so dove stia allora forse 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 faccio no niente per con ragazzi un pollo un pollo devo salire devo salire ragazzi io salgo con la pietra non me ne frega ora pianto un albero come un provolone perfetto ho plantato l'albero e ora arriendo al villaggio mi dovresti vedere che sto attraversando il fiume se vuoi sulla casa della formata veramente io sono a casa mia dove sta la casa tua? vicino al tempio ci sono due case dove ho dentro ma sono due letti quindi il tempo è di qua aspetta che io muore ragazzi io se non sono vicino al mio amico black horse non mi sento sicuro qui ragazzi vedrete in chat che eravamo in creative perché ovviamente io ho paura perché prima sono entrato nel server e ho detto oddio adesso muoio ero circondato da zombie ero in creative dove sta? la casa tua e l'altra chiudi dai fabio vai nella casa tua e chiudi la porta ragazzi mi amiamo a dormire che bella casa di merda che hai fatto cioè lui c'è la casa più lunga di un blocco no vai a dormire no vedete ragazzi tu mi puoi approccio hai ragione io mi trasferisco nooo no dove tu prendo il letto no è il mio letto ciao a proposito ma 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 questa casa mia io sono persona di carbone no come ho questa casa tua casa mia? io non vado a dormire dal fornare a cesco vai a dormire? dalla formace ciao non c'è neanche la porta che ti protegge e ce la metto io va bene vai porta nice cioè ragazzi io ti ho poso le torce e le ho messe per poi toglierle ma ma perché c'è un po' di cibo a parte scherzi? adesso ne avrei due cose di manzo crudo che sto cercando di un posto per andare a cuocere ma giusto o rubo rubo una cosa intelligente evito la carne marcia poi vengo qui nooo perchè mi spacchi di cosa? sto prendendo ste cose no lasciale mamma mia mi piacciono sono di cazzo non l'ho fatto non l'ho fatto non l'ho fatto da te lì per terra che ti lamenti che bello la carne marcia allora tu chiedi carbone no dove il tizio che mi vende le frecce non lo so oh ragazzi ho perso il tizio che mi vende le frecce ragazzi mi vende la sua marcia dove il tizio più figo che esiste come dico vecchio è un filo della madonna mi dà le frecce per gli smeraldi ho appunto plan di cervelli marci come noi mi l'hanno eh vecchio questo coper sette smeraldi ci dà già l'occhio dell'ender a me mi frega più di lei dei cervelli marci eh no io nel senso ce li avrei ce ne ho 16 di smeraldi buono ma dove cavolo è una cosa? però guarda vecchio io vorrei andare comunque nel nether amore dov'è la crafting table? boh non lo so non mi ricordo dove dove c'è una crafting table in c guardate sto qui mi vieta di scambiargli ancora roba per gli smeraldi perchè lo so ma sto qua tu madonna io non ci credo che questo qua vuole 10 smeraldi per una spada di ferro ma mettiamolo in galera quindi berlusconi da una vendetta chi è? chi è quello che vuoi mettere in galera? c'è uno che per 10 smeraldi dà la spada di ferro c'è chi è? chi è? chi è? uno ma lascialo vivo ti vieto di... no non zido no non zido puoi vedere chi è? non lo so sono tutti uguali no 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 vecchio forse è davvero morto quelli invece no allora ragazzi bisogna farlo spawnare ma che allora mi metti in creativo oh 9 lingotti di ferro e uno smeraldolo si dai quello lì è abbastanza buono voglio dire 14 si costretti i maiali cruz io sinceramente mi sembra è che non trovo quello che per uno smeraldi ti dà le 12 frecce e questo 10 smeraldi e una spada di ferro no basta ma questo ma guarda questo è facile da prigione ragazzi cioè metti in prigione non me ne frega c'è cosa vuoi andare in prigione? no ma davvero io non lo trovo più non so dove andare si è vero eh bravo ma anche no ma questo lo metti in prigione ma sai che ho davvero paura di aver perso il diritto strafigo ah si? eh no davvero vecchio l'abbiamo perso mi sa no l'abbiamo perso ragazzi no forse è andato in giro perchè ho scoperto che questi villici si divertono ad andare in giro però tipo quando viene la notte ti corrono subito a casa ah si? lo troveremo poi il bello è che tipo io trovo la stessa persona in tutti i posti del posto qua in tutti i posti del posto se questo qui voi non lo so ragazzi continuano a spostarsi sti tizio ragazzi ho fatto la pulizia una statizia ma povero no no deve morire hai ragione deve morire bravo stai qui fermo ecco fatto no 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 ragazzi se io faccio ho spiegato uno ho spiegato otto pezzi di cosa? di terra perchè fa un ammazzo crudo perchè c'è un ammazzo crudo magicamente perchè me l'hai rubato a me mi sembra che c'era un tizio che ti dava 9 di ferro e uno smeradolo madonna che memoria che hai io mi sto facendo gli ingotti di ferro hai per caso la fornace si o della pietra almeno c'è della fornace hai la pietra? no me la casa mia no vabbè me la scavo più ci sto lontano più ci sto lontano più sono contento ragazzi no non ci credo no dove è nato io mangio la carne marcia ue tu cosa mi scambi? oh no non ci credo la porta in faccia a porta io vorrei vedere un villico che ti scambia per della carne marcia e ti da uno smeraldo vorrei proprio vederlo 16 di carbone e uno smeraldo 2 di carbone e i stivali di cuoio 2? 2 smeraldi? 2 di smeraldi e gli stivali di cuoio ragazzi no no ma te vai in carcere sta spollando vai in carcere amico te vai in carcere cioè non me ne prego ragazzi è spollato no non è spollato adesso va in carcere cioè non me ne prega tu vai in carcere punto e basta io spacco le case per prendere cosa io devo andare in carcere ma in questo episodio cosa facciamo di concreto? io sto costruendo le carceri quindi costruire i carceri per i villici in questo episodio ragazzi buono quanto carbone hai che io ne ho 10 potremmo ricavarci un altro smeraldo io carbone sono a 22 buono allora vai a vendersi chi è la coltizia? vecchio sono tu ah me ne dai 6 no ti do io 10 così vai a 32 e abbiamo 2 smeraldi in più ma no vecchio compriamo sto perla dell'ender chi? c'è non la perla quella potenziata bel tizio che la vende lei dica guarda vai avanti vai avanti hai visto? lo smeraldi sfare di cuoio in che senso vai avanti? allora vedi che in alto a destra c'è la cosa aspetta questo qui è quello che ti da anche 16 di carbone ma ti scanzi che non riesco a vedere? eh vedi se vi ci ricordano uno smeraldo vedi che in alto vicino allo smeraldo ma questo vuol dire che questo ah ma questo vuol dire che magari quello con la freccia semplicemente ha cambiato ma tu non hai niente allora prendo gli smeraldoli che dici? si si prendili ti ho passato anche la mia di roba 2 smeraldoli il mio 16 un mese 14 questa cosa non la sapevo questo è lo stesso di prima no bella questa cosa qui non la sapevo ma a me perchè mi sembra che ci siano molti meno vivici notatene? per questo paura non so se sono scappati dal villaggio come loro solito ma sono dei nabbi non c'è ragazzi noi abbiamo fatto pure la cittadinanza e questi scappano no ragazzi io avrei pagato io avrei fatto un test io ero cittadino io mangiare le corne marcia dove sono il progetto no ragazzi ma mi serve ci vuole stare un po' così in bisogno qualcuno di noi dovevo a casa e io a prenderci no 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 come del cibo ragazzi vedete che bella carcere tutta colorata che bella carcere ragazzi vada cercare del cibo perchè viva viva l'italiano mhm beh io qui c'ho qua ma sai che tu mi devi ancora uno dei due guinzagli che abbiamo trovato l'ho trovato io mi è scomparso dall'inventario è colpa mia se sei nabbo no tu sei nabbo no 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 ogni volta che ti presenti ti chiami xx nabbo quindi sei tu nabbo ma dai ma basta zitto no ragazzi non avevo fatto le scoperte scientifiche zitto che io ho anche del cibo curiosa io sto tornando a cercare cibo 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 ma va a cercare canne da zucchero che un villico ci dà la carta allora tirate le canne da zucchero e le canne basta no ragazzi però ce le ho qui davanti ma da quant'è che stiamo registrando la noio craft ehm la noio craft sarò oramai saranno passati 10 minuti si credo si anche di più 15 beh vabbè non lo so comunque credo che questi episodi faremo tutti da 20 minuti ma scusa cosa cosa stiamo facendo in questo episodio a parte stare fermi qua cazzeggiare una mucca un canyon ok ho trovato io ho trovato una mucca ero tutto felice poi ho trovato il canyon mentre saltavo per farlo il critical dai ragazzi io ammazzo qui tutte queste cose tutte tutte io ammazzo qui le mucche cibo 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 ecco le mucche sono una cosa importante nel nostro paese sta avvenendo notti io sono ancora qui in questo buco di merda perchè qui ci sono così tanti cavalli come cavalli ma che è successo sono in pianura sono in pianura però che hanno di cavalli e i cavalli stanno nelle pianure si ma così tanti eh sono mandrie guarda se c'è un asino si 2 3 3 asini 4 asini dimmi le coordinate dimmi le coordinate sta arrivando notte aspetta un attimo che mangio prima però si infatti sta arrivando notte ma vieni tu al villaggio adesso si aspetta da che parte c'è andato scusa non lo so basta tanto basta che seguiamo il coso interiore in modo di trovare il villaggio eeeh rammico io c'è uno sport di diamantico eh lo sai ehm c'è paura eh canna da zucchero canna da zucchero canna da sport canna da sport buono sta di fatto che io non ti vedo infatti io non sto nel villaggio ragazzi direi che paradi a tutti ci vediamo in un prossimo video lo stavo proprio pensando ci troverete al villaggio a dormire ciao ciao ragazzi